Les Mills Bar 12 vi stupirà per la sua semplicità. Schemi coreografici facili da imparare, con molte ripetizioni dello stesso esercizio, per poter trovare la giusta fatica muscolare. Si comincia con un riscaldamento a base di grand plié, tandis derriere, arabesque, tutto ciò che serve per scaldare in maniera profonda le anche e per entrare in sintonia con il proprio corpo. Si continua con il brano 3, che presenta una meravigliosa novità, tutta da provare. Latitude, ottimo per il rinforzo della catena posteriore del corpo. Arriva il brano 4, un'esplosione di energia, un'interminabile combinazione di échappé, changement e saison accompagnati da un remix musicale che vi farà venire voglia di non fermarvi mai. Con Take me to the cloth above vi verrà voglia di andare sempre più in alto. Brani 5 e 6, brevi ma di grande efficacia per il rinforzo muscolare di tutto il corpo. Brano 7, un seguito o un'evoluzione della traccia 4. Non fermatevi a contare quanti salti farete, pensate meno e godetevi maggiormente la magica libertà della danza come momento di allenamento. Per finire i brani bonus, due grandi sfide eccitanti e innovative che porteranno freschezza e nuovi stimoli nelle vostre classi. Tutto questo abbinato a dei suoni emozionanti che offrono grandi contrasti e sappiamo bene che in Les Mills Bar tutto è nella musica.